La solita fuffa, cioè le solite parole, i soliti slogan, ma nulla di concreto. Ricordiamoci che Renzi e il partito del PD sono coloro che hanno partecipato e hanno permesso la costruzione di questo tipo di Europa, che ora dicono di voler cambiare, ma l'hanno creata loro questo tipo di Europa e quindi il tentativo di rifarsi una faccia davanti agli italiani in prossimità della campagna dell'Europea potrà funzionare solamente con chi crede alle belle parole e gli slogan, ma no a chi guarda i fatti.